Sicuramente è stata un'esperienza da consigliare e sicuramente lo ritengo un argomento che è stato trattato molto interessante, sia per la mia attività professionale e ovviamente immagino di interpretare anche il pensiero degli altri miei colleghi partecipanti, per tutti gli altri colleghi che appunto svolgono questo tipo di lavoro. È un'opportunità che la Regione ci ha dato e anche in forma gratuita e quindi ritengo che sia stata una cosa molto importante da poter partecipare in questo incontro e soprattutto da consigliare anche ad altri colleghi se in futuro eventualmente verrà riproposta. Sicuramente è un argomento che va e andrà approfondito perché ovviamente anche la nostra regione, come abbiamo visto nei vari moduli, non è immune purtroppo da questa problematica che si ripercuote anche a livello nazionale e quindi anche nella nostra regione, come abbiamo visto negli incontri precedenti, abbiamo avuto questo approfondimento su questa tematica e sicuramente è un problema che va affrontato e approfondito anche più avanti. Non deve essere una cosa che viene limitata solamente a questi incontri, ma deve essere una cosa che poi viene trasferita nelle nostre realtà piccole e grandi che siano.